se ti è tutto chiaro quello che abbiamo ripassato nella prima lezione possiamo fare un passo avanti un pochino più impegnativo abbiamo parlato nella lezione di ripasso numero 1 dei complementi diretti e abbiamo accennato solo al complemento oggetto ci siamo concentrati su come si fa a riconoscere il complemento oggetto abbiamo detto che il complemento oggetto indica una persona o una cosa su cui ricade direttamente l'azione espressa dal verbo e che quindi la sua caratteristica è quella di non avere delle preposizioni che aggancino questa persona o questo oggetto al verbo si chiama complemento diretto proprio perché c'è un legame diretto tra questo complemento e il verbo facciamo un esempio semplice allora applicando la regola che abbiamo ripassato la volta scorsa individuo immediatamente il predicato che ha comprato voce del verbo comprare mi faccio la domanda per trovare il soggetto perché ricordati che è la prima azione che bisogna fare subito dopo aver individuato il predicato quindi chi compie l'azione di aver comprato pino è a questo punto che posso dedicarmi agli altri complementi qui ne ho evidentemente due ho le mele e ho al mercato la domanda per trovare il complemento oggetto è pino ha comprato che cosa le mele la riprova che questo è il complemento oggetto è non solo la risposta alla domanda ma anche il fatto che come abbiamo appena detto non ci sono preposizioni per collegare le mele al predicato ha comprato mentre ad esempio al mercato ecco vedi che qui c'è una preposizione articolata ma cosa succederebbe se io scrivessi così pino ha comprato delle mele al mercato questo delle potrebbe trarmi in inganno perché delle è una preposizione la preposizione articolata e noi abbiamo appena finito di dire che il complemento oggetto le preposizioni non le ha attenzione in questo caso però la parolina delle non svolge la funzione di preposizione articolata svolge la funzione di plurale degli articoli indeterminativi gli articoli indeterminativi un uno una non hanno il plurale allora come faccio io a indicare una quantità generica ma che non sia uno solo devo ricorrere alle preposizioni quindi io posso dire prestami un libro se ne voglio uno solo ma dovrò dire prestami dei libri se ne voglio più di uno bene in questo caso delle mele indica una quantità generica di mele comperate da pino quindi io non devo farmi ingannare perché in pratica è come se io invece di scrivere delle scrivessi allora la frase l'analizzerei così ha comprato predicato verbale pino soggetto che cosa alcune mele direi tranquillamente che questo è il complemento oggetto bene lo dico anche in questo caso questo è lo stesso un complemento oggetto che chiamerò partitivo partitivo perché perché indica una parte di un insieme più grande pino non le ha comperate tutte le mele al mercato ha comperate un po ne ha comperate alcune ha comperato delle mele quindi soggetto pino ha comperato predicato verbale che cosa delle mele complemento oggetto partitivo quindi noi possiamo trovare un complemento oggetto semplice senza nessuna preposizione oppure possiamo trovare un complemento oggetto partitivo ma in quel caso la preposizione non serve per agganciare l'oggetto al predicato serve semplicemente per indicare una quantità generica ma non è finita qui se io scrivesse una frase invece così pino non ti ha visto al mercato blocca pure il video e prenditi qualche minuto per farne l'analisi poi riprendi ad ascoltare la lezione se hai seguito le regole avrei fatto sicuramente così ha visto predicato verbale chi compie l'azione di aver visto pino soggetto e a questo punto spesso che cosa capita capita che si perdano dei pezzettini invece io spero che tu abbia notato questa parolina ti che è un pronome personale che significa te quindi pino soggetto non ha visto predicato verbale chi te ed ecco che questo pronome svolge la funzione di complemento oggetto allora questa frase ci fa ripassare un altro concetto il complemento oggetto può essere espresso anche semplicemente da un pronome personale allora il consiglio qual è siccome i pronomi personali sono piccolini e a volte ce li perdiamo per strada un altro errore è quello di rimetterlo insieme al verbo non ti ha visto attenzione bene perché i pronomi personali svolgono anche loro una funzione logica all'interno della frase quindi bisogna individuarli e bisogna applicare anche con loro le domande che sta imparando a farti allora in questo caso il pronome personale ti che significa te svolge la funzione di complemento oggetto sempre a proposito di pronomi ce n'è un altro sul quale bisogna concentrare l'attenzione se io scrivo pino ha comprato le mene che tu gli hai chiesto anche qui ferma un attimo il video e prenditi qualche minuto per analizzare bene la frase mettendo in pratica tutto quello che hai ripassato finora se hai applicato quello che abbiamo ripassato ti sarai subito accorto di questo di verbi io qui ho ha comprato ma ho anche hai chiesto cosa significa questo abbiamo detto che se ci sono due predicati ci sono due frasi quindi io per prima cosa devo individuare le due frasi devo spezzarle e devo analizzarle una per una per non fare confusione in questo caso le due frasi verrebbero così quindi pino ha comprato le mele che tu gli hai chiesto l'altra regola è questa ogni predicato deve avere il suo soggetto quindi se qui abbiamo due predicati e quindi due frasi noi dovremo individuare per ciascun predicato il suo soggetto io ti consiglio di scrivere il soggetto sempre vicino al verbo per due motivi prima di tutto perché in questo modo farai capire che tu hai individuato il soggetto di quel verbo e poi perché serve a te per non fare confusione la frase potrebbe essere complessa potrebbe essere lunga quindi se tu metti accanto al verbo il soggetto sarai molto più comodo e più sicuro nel fare l'analisi quindi partiamo dalla frase numero uno Pino ha comprato le mele ha comprato predicato verbale Pino soggetto Pino ha comprato che cosa? le mele complemento oggetto veniamo adesso alla seconda hai chiesto predicato verbale facciamo la domanda che compie l'azione di avere chiesto? tu tu hai chiesto quindi il soggetto è tu soggetto veniamo adesso alle altre paroline che ci sono qua abbiamo un che abbiamo un gli tutte le volte che trovi un pronome personale è buona norma capire che cosa significa perché solo in questo modo tu potrai anche capire qual è la sua funzione logica all'interno della frase in questo caso gli significa a lui quindi sicuramente è un complemento che noi adesso non abbiamo ancora ripassato però saprai sicuramente che è un complemento di termine non è un complemento oggetto quindi per adesso a noi non interessa ma quello che è importante è che tu ti ricordi che comunque questa parolina gli ha un suo significato e quindi ha una sua funzione logica che corrisponderà a un complemento vediamo adesso al che il che normalmente può essere due cose può essere una congiunzione può essere un pronome se è una congiunzione se è una congiunzione come dice la parola serve semplicemente a unire due frasi non si può sostituire con nient'altro se invece è un pronome significa il quale il quale il quale la quale il quale ovviamente è declinato a seconda di quello che serve allora quando io trovo un che in una frase attenzione perché questo ti servirà anche più avanti quando farai l'analisi del periodo il che è una parolina piccola ma fondamentale può essere molto insidiosa quando io trovo un che la prima cosa che devo stabilire è è una congiunzione o è un pronome come faccio? se posso sostituirlo con il quale allora è un pronome se non posso è una congiunzione le mele che tu gli hai chiesto posso sostituirlo con in questo caso le quali certo certo in questo caso il che è un pronome quindi Pino ha comperato le mele le quali tu gli hai chiesto ed ecco che posso farmi la domanda per trovare il complemento oggetto tu tu hai chiesto che cosa le quali le quali mele complemento oggetto non è difficile bisogna semplicemente prestare un po' di attenzione e ragionare un pochino d'altra parte si chiama analisi logica proprio perché mette in campo le nostre capacità logiche quindi in questo caso nell'analisi di questa frase io scriverò che le quali uguale complemento oggetto ora vediamo se hai capito prendi carta e penna stoppa questo video e prova ad analizzare tutti i che che trovi in queste frasi quando avrai finito potrai riprendere la visione del ripasso partiamo dalla frase numero uno è importante che ci siano tutti allora abbiamo detto che la regola per capire se un che è pronome relativo oppure congiunzione è quella di provare a sostituirlo col pronome il quale vediamo è importante il quale vediamo se si può fare il quale ci siano tutti ma direi che proprio no in questo caso il che è una congiunzione serve a unire questa frase è importante è importante a questa ci siano tutti quindi il che non può essere assolutamente sostituito con il quale ed è una congiunzione segniamola in un colore diverso congiunzione serve a unire queste due frasi passiamo alla seconda frase ho apprezzato le parole che mi hai detto in questo caso facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto prima proviamo a sostituire il che con il quale e anzi in questo caso siccome abbiamo le parole che è un femminile plurale sostituiremo il che con le quali e qui ci sta certo questo è un pronome relativo perché perché mi serve questo che a non ripetere le parole ho apprezzato le parole ho apprezzato le parole le quali parole tu mi hai detto quindi in questo caso è un pronome relativo andiamo avanti devo restituire il libro che mi ha prestato Pino allora qui abbiamo una parola che è maschile singolare quindi proviamo a sostituire con il quale devo restituire il libro il quale libro mi ha prestato Pino sì giusto ci sta anche questo è un pronome relativo che cosa noto avendo fatto queste due frasi che il che pronome relativo sta sempre vicino al nome al quale si riferisce in questo caso il che si riferiva alle parole in questo caso il che si riferiva al libro deve essere così questa è una regola che devi osservare anche quando sei tu a scrivere un testo il pronome relativo che deve essere sempre vicino alla parola che sostituisce altrimenti possono succedere dei frantendimenti e il significato della frase può essere compromesso andiamo avanti quindi si racconta che tempo fa vivesse una principessa si racconta che tempo fa ecco vedete però che già qui se abbiamo capito bene e ci ricordiamo che il pronome è una parte del discorso che serve per sostituire una parola già si capisce che qui che parola che parola volete che si sostituisca non c'è nessuna parola da sostituire infatti questo che non è un pronome relativo è una congiunzione io non posso dire si racconta il quale tempo il quale chi non ho niente da sostituire con il quale in questo caso il che serve semplicemente a unire questa frase si racconta e questa frase quindi io scriverò vediamo l'ultima frase nel nostro ripasso troviamo una frase strutturata così per la prima volta certo noi ormai siamo diventati bravi abbiamo capito che se ci sono due predicati ci sono due frasi ma se io non sto attento che errore posso fare posso fare questo errore il deserto che molti ritengono arido prima frase è pieno di vita seconda frase questo è un errore molto grave perché queste due frasi non sono poste una accanto all'altra ma sono messe una dentro l'altra e quindi io devo capire dove la seconda frase si è inserita nella prima se io facessi l'analisi di questa frase qua è pieno di vita io avrei un predicato nominale questo che è un un complemento indiretto e chi compie l'azione di essere pieno di vita se io faccio iniziare la frase qui dove ho messo la sbarretta non ho un elemento che mi fa da soggetto cosa scrivo esso? va bene proviamo a scrivere esso soggetto che è un errore che fate spesso benissimo soggetto sottointeso l'abbiamo imparato mi sembra giusto adesso analizzo l'altra frase benissimo ritengono predicato verbale adesso troviamo il soggetto molti soggetto benissimo che 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 è un pronome relativo proviamo a vedere allora si trova vicino a una parola che potrebbe sostituire allora proviamo a sostituirlo il quale il quale il quale molti ritengono arido sì va bene quindi questo è sicuramente un pronome relativo non solo ma io addirittura posso già dire che svolge la funzione di complemento oggetto perché molti soggetto ritengono predicato verbale chi il quale quindi complemento oggetto a questo punto io mi rendo conto dell'errore che ho fatto prima perché questa parola il deserto cosa ne faccio dove la metto che funzione svolge e allora qui capisco di aver fatto un errore il deserto è il soggetto di questo predicato e questo è un errore grave quindi la frase numero uno è il deserto è pieno di vita il deserto soggetto è pieno predicato di vita all'interno di questa prima frase è stata inserita la seconda che molti ritengono arido perché è stata messa lì? non poteva essere messa in nessun altro modo perché il pronome che deve sostituire la parola deserto e quindi come abbiamo detto prima deve stare vicino quindi attenzione allora abbiamo ripassato un'altra cosa non è detto che le frasi siano tutte una di seguito all'altra potrebbe capitare che io sia costretta a inserire una frase dentro l'altra perché il mio pronome relativo deve stare vicino alla parola che sostituisce la parola che non è che non è che è che non è che